1778 nasce Sir Henry Davy, inventore inglese della lampada di sicurezza per minatori. Davy si rifiutò di brevettare la lampada. 1917 muore Elisabeth Garrett Anderson, prima donna medico inglese. 1925 muore Albert Nelson Holmbay, uno degli sportivi più conosciuti in Inghilterra nel XIX secolo, giocatore sia di rugby che di cricket. 1936 nasce Tommy Steele, cantante e attore inglese. 1954 viene costituita la British Petroleum Company, BP. 1967 Alec Rose, a bordo della Lively Lady, completa la sua navigazione in solitario di 14.500 miglia dalla Gran Bretagna all'Australia. 1968 Mary Bell, di 11 anni, viene condannata all'ergastolo per l'omicidio di due ragazzini, strangolati solo per il piacere e l'eccitazione di uccidere. 1983, tre agenti di polizia e tre civili rimangono uccisi da un'autobomba dell'IRA in una strada laterale vicino ai grandi magazzini Harrods a Nicebridge. 1986, la signora Davina Thompson, in un ospedale di Cambridge, diventa la prima paziente al mondo trapiantata di cuore, polmoni e fegato. 1983, la signora Davina Thompson, in un ospedale di tecone dirze y corruption, pregato con l'ultima di California. Grazie a tutti.